Partendo dall'azzeramento totale del partito, io mi aspettavo che all'indomani di questa batosta elettorale il segretario Magorno come un allenatore di una squadra che retrocede si presentasse di missionario ma se non si presenta di missionario il minimo è che venga esonerato quindi il partito democratico democraticamente deve esonerare il suo allenatore quindi immagino che serva un azzeramento del partito ma dando anche l'alternativa seria e credibile chiedendo un congresso straordinario da celebrare in autunno con una momentanea regenza fatta da tre o quattro persone e serie credibili che possano traghettare il partito fino a nuovi congressi ma io intanto spero che ci sarà questa direzione perché si dice che non c'è due senza tre Magorno ci ha abituati a continui rinvii e alla presenza quando invece il partito si riunisce deve farlo sempre insieme a qualcuno venuto da Roma proprio perché a dimostrare l'ingapacità di gestire un partito che ormai è stato ridotto a zero Sonia Rocca e la Cinews 24